Questo video tutorial è dedicato a Writer, l'elaboratorio di testi di openoffice.org Writer offre tutta la tradizionale funzionalità degli elaboratori di testo tra le quali ricordiamo i modelli e gli stili, le raffinate modalità di layout di pagine incluse le cornici, le colonne, le tabelle l'incorporamento o collegamento di immagini, foglie elettronici e altri oggetti strumenti di disegno integrato annotazioni delle modifiche durante le revisioni integrazioni con i database, incluso database bibliografici e l'esportazione, direttamente dalla nostra area di lavoro, dei nostri testi in formato PDF Per accedere a Writer, dalla schermata principale di openoffice, clicchiamo su documento di testo e qui compare la schermata principale di Writer che è così composta In alto troviamo la nostra barra del menu e vedremo man mano nel corso dei video tutorial tutte le funzioni che ci vengono fornite attraverso la barra del menu come per esempio quella di aprire un nuovo documento di testo o dei documenti recenti clicchiamo su un documento aperto di recente Subito dopo la barra del menu troviamo invece la barra standard in cui troviamo le icone maggiormente utilizzate quali per esempio l'esportazione di un file direttamente in PDF o di mandare in stampa il nostro documento di testo o di vederne un'anteprima e altri pulsanti che vedremo nel corso dei video tutorial Subito dopo abbiamo la barra di formattazione del testo e in questa barra noi possiamo scegliere oltre agli stili di formattazione anche i font, quindi per i nostri caratteri le dimensioni dei nostri caratteri e altre funzioni quali il grassetto, il corsivo, il sottolineato o la possibilità di assegnare, di creare un carattere come apice o come pedice di dare un allineamento al nostro testo e di dare un'interlinea oltre alla creazione delle numerazioni degli elenchi numerati e degli elenchi puntati la possibilità di poter colorare il nostro testo quindi la colorazione dei nostri caratteri o del nostro sfondo quindi di dare uno sfondo ai caratteri oltre che dare un colore di sfondo al nostro documento principale in basso troviamo la barra di stato nella barra di stato vediamo che essa è composta da diverse sezioni vediamo le caratteristiche principali nella prima sezione troviamo il numero di pagina questa sezione indica sostanzialmente la pagina in cui noi ci troviamo e il numero totale delle pagine del nostro documento quest'altra sezione invece indica lo stile della pagina che stiamo utilizzando in questo caso stiamo utilizzando uno stile predefinito ma cliccandoci sopra con il tasto destro abbiamo la possibilità di creare assegnare al nostro testo un nuovo stile quest'altra sezione indica invece la lingua che noi stiamo utilizzando in questo caso l'italiano abbiamo la possibilità di modificarlo anche in inglese o di installare una nuova lingua direttamente dal sito dell'estensione di openoffice.org vediamo una particolarità alcune parole del nostro testo hanno una sottolineatura rossa questo significa che è inserito il controllo ortografico del nostro testo in questo caso usando come lingua l'italiano vediamo che le parole in inglese non vengono riconosciute e quindi vengono segnalate come possibili errori di battitura per eliminare questo problema possiamo o ignorare singolarmente la sottolineatura rossa quindi per ogni singola parola cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse vediamo che un writer innanzitutto cerca di darci dei suggerimenti in italiano ma noi possiamo o ignorare il problema per questa singola parola o ignorare ogni volta il problema ogni volta che si incontra nel nostro testo la parola writer un'altra possibilità è quella di selezionare il nostro paragrafo e premendo nella barra di stato sopra la sezione lingua possiamo dire di non eseguire il controllo ortografico infatti selezionando quest'opzione vediamo che tutte le sottolineature rosse scompaiono quest'altra sezione indica invece la modalità di inserimento in scrittura abbiamo due modalità la prima è in inserimento e cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse passiamo invece in modalità sovrascrittura quali sono le differenze in modalità in scrittura posizionandoci tra una parola ed un altro e immettendo del nuovo testo vediamo che questo viene inserito nel punto in cui abbiamo cliccato abbiamo inserito diciamo il nostro testo mentre in modalità sovrascrittura scrivendo del nuovo testo questo in automatico va a cancellare anche il testo che segue quindi dobbiamo stare attenti a capire il tipo di modalità di inserimento del nostro testo che stiamo utilizzando quest'altra sezione invece è la modalità di selezione del nostro testo cliccando sempre sopra con il tasto sinistro del mouse passiamo dalla modalità standard in cui siamo adesso alla modalità estesa alla modalità aggiuntiva e a blocco la modalità standard è la selezione normale del nostro testo quindi spostandoci in alto in basso con il nostro mouse e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse selezioniamo parte del nostro testo che viene colorato con un colore azzurro in modalità standard premuto anche il tasto controllo della nostra tastiera abbiamo la possibilità di selezionare del testo non consecutivo la particolarità di fare quest'operazione è quella di poter anche copiare del testo con una propria formattazione come in questo caso openoffice.org e writer hanno una formattazione in stile grassetto quindi copiando cliccando con il tasto destro del mouse sulle parole appena selezionate facendo copia abbiamo la possibilità di copiarle in qualsiasi altro punto del nostro documento quindi ci posizioniamo nel punto in cui vogliamo incollare le parole appena copiate clicchiamo con il tasto destro del mouse e facciamo incolla se vogliamo incollare senza nessuna formattazione abbiamo la possibilità di utilizzare questo pulsante incolla e di incollare vediamo il testo senza nessuna formattazione posizioniamoci con un font times new roman premiamo sul testo non formattato e vediamo che in questo caso tutte le parole prima selezionate vengono incollate senza nessuna formattazione quest'altra sezione invece ci dice se il documento è stato modificato dall'ultimo salvataggio fatto infatti per ogni nuovo modifica che io apporto al file vediamo che questa sezione subisce diciamo ci indica che il documento è stato modificato dopo l'ultimo salvataggio e viene identificato con un punto esclavativo abbiamo la possibilità di salvare il documento anche cliccandoci sopra due volte quest'altra sezione mi dice se il nostro documento è stato firmato o meno quindi se è stata apportata una firma digitale oppure no mentre in quest'altra zona della barra di stato abbiamo lo zoom quindi abbiamo la possibilità di diminuire il layout del nostro documento o di aumentarlo quest'altra sezione della barra di stato ci indica la modalità di layout e abbiamo tre modalità la modalità a foglio singolo la modalità fianco a fianco e la modalità libro a fianco a fianco a fianco a fianco di aumentarlo Grazie.